Decembra sa tutti ragazzi ovviamente non prendetelo troppo sul serio, giocate un po' di fantasia ma ricordate di lasciare il vi piace, proviamo ad arrivare a mille, divertitevi Decembra sa tutti ragazzi qui Blur e come potete vedere oggi abbiamo un video molto speciale perché abbiamo un ospite speciale, ciao bel pamagione What's going on guys? It is awesome, I'm as here Tutto bene, meno male, meno male, come sapete la kill race che cos'è su B.O.2 sono 5 minuti contro i bot in team deathmatch, chi fa più kill semplicemente E niente allora possiamo anche iniziare, sensazioni a caldo pamagio Benissimo anche troppo a caldo personalmente Ora sta iniziando Austin, se posso chiamarti così fa molto più professional Ok benissimo, io ho rubato da te tutte, tutte le classi possibili perché io non so impugnare, ovviamente non lo so impugnare un cazzo di cecchino Quindi di conseguenza su B.O.2 quindi di conseguenza ho dovuto copiare qualcuno Allora, il trucco qui è morire poco, quello è scoperto, cioè mi spuntavano, da lì che spunta il mondo Non mi stavano spuntando, mi uccidono dopo Il trucco è morire poco e sono morto dopo due kill Perché la gente, a recluta, sa ammirare, sa uccidere, sa fare tutto Ma allora che cazzo ci metti a fare le difficoltà, no? Vai, vai le multi Eh vabbè, mi sbaglia sempre il quick, maledetta Oh mio Dio, davvero, davvero? Lancia razzi subito e back to Cioè lancia razzi back to quello col coltellino Guarda, 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 è fiero Capito? C'hai il culo che non ti capita quello con la ti sono mossa appena volta Ti capita l'uomo con lancia razzi Così funziona sto video game di merda Se ti dice un attimo culo Subito dopo non ti dice più culo Devo fare le streak, dai, dai Blue Che ce la fai? Allora, l'obiettivo è fare almeno 90 per stare al sicuro Perché se no, veramente Sta andando Certo Meseo potrebbe pure buttare a volte un cazzo di collaterale Ecco, arriva, arriva il maestro, arriva il maestro Nizuka Che ti uccide così, tranquillamente Oh, collaterale, incredibile Tu madre Cosa, sto zitto, regà, mi dispiace, però È un video un pochino così Molto sul momento Io ne ho fatto anche uno con chakra Che però non mi ricordo Non ho fallito di quanto avevo fatto Mi sembra come quella persona che trova che hanno fallito la grazia Ma si stanno continuando a smilare Tu sai? Wow Guarda, hai visto? Finiscono le cose dei lanciarazzi Porco tu, si mettono il coso Il coltellino Proprio cancro Pi cancro Terribile Che odio Che odio Comunque Perché l'idea di questo video? Perché praticamente Quando a Romics siamo andati a bere poi di sabba Tutti insieme quelli di Melagoto E a fare i VIP per i locali Praticamente mi sono messo a parlare con Teots A fanboyeggiare in realtà E praticamente è uscito fuori Che lui, visto che è stato da Dread Ha potuto rigiocare a B.O.2 E si è fatto una kill race Provando a battere proprio te Pamage Oh shit! E ha fatto tipo Pamage fa sempre 90 Lui ha fatto 85 Quindi si è ci ha detto Se mi ci rialleno Vinco di sicuro Gli ho fatto 6 air flex Lo so però Stai calmo un po' Però Comunque si Mi ha messo la scimmia De provare La kill race Quindi ci sto a provare Fai mirini metallici Mirino metallico quando miri Cioè ma che è? Davvero? Non c'è gente Ecco il momento Della partita in cui Non si sa perché Non c'è gente 9 persone con Ma non c'è gente Che odio Che odio Tu madre Guarda quello già sapeva Che spuntavo da là Ma perché? Guarda di Ma come? Guarda di Ti giuro Quando ti sparano Da cross the map È incredibile C'hanno una mira Che è assurda Eh eh Vabbè Sanno mirare Dio che odio A me sti cose mi danno un fastidio Non ho fatto una streak Sì certo Mo ci manca solo Garelu da gli fa Fai quick Così proprio Stiamo freschi Ma No Regano Cos'è assurda Mamma mia Movense da feeder Per lui Ma poi tranquilli Tanto lo uccidono Come sta andando a te Pamaj Capito Perfetto Dai Dai Questa è una bella streak Una bella streak Ah Sì collateral Sì Sì Non ne siamo più a sbagliare uno Non ne siamo È proprio È quel momento Certo a fine partita Quel momento arriva Vai No Ah Vai 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 Vi dobbiamo arrivare L'avevo detto l'obiettivo Qual era all'inizio Però Dai che gliela fa Dai che gliela fa Dai che gliela fa Sì che gliela fa Sì che gliela fa Ando stanno No Cazzo Vaffanculo 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 Non lo dico io No 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 Io non lo dico All right man Dillo te Potevo dio Fatto 99 Oh my god This is done man I'm upset È bed È beddissima 94 Quanto hai fatto Quando trovi una persona forte come me Non ci puoi fare niente I'm fine with that Buono buono Allora ragazzi mi raccomando Intanto ti ringrazio per la partecipazione Per il resto mi raccomando Lasciate un like Un commento Proviamo arrivare a mille Ce la facciamo arrivare a mille E noi ci vediamo al prossimo video Che saranno quelli del torneo Che inizia a breve E nient'altro Ciao ciao